E mia figlia? In questo periodo mi sono rotto una gamba, ho avuto un incidente con l'auto e mia figlia è rimasta incinta dal fidanzatino. Perché? Commento. Perché non è casuale il periodo in cui le disgrazie arrivano a grappolo. È il tuo corpo astrale che ha bisogno di vibrare fortemente per uscire dalla stagnazione che tu gli hai assegnato.